È la prima volta nella mia vita che porto lo zaino con i vestiti per salire nel podio per la premiazione, ma era un qualcosa che mi sentivo dentro, era il mio giorno e è andata come doveva andare. Ho sorriso finalmente, sono stati cinque anni in cui di sorrisi ce ne sono stati veramente pochi e quel giorno non potevo che sorridere perché avevo raggiunto quello che era il mio obiettivo, ovvero essere presente per provare a vincere l'oro olimpico e a quel punto me la dovevo giocare io. Ho sempre saputo che la mia carta migliore è quella di saper rendere nelle gare importanti, sapevo che era la carta che mi dovevo giocare quel giorno, sapevo di star bene, quindi non potevo che godermi quel momento. Adesso voglio veramente godermi quello che è stato questo successo perché l'ho rincorso per tantissimo tempo tra mille ostacoli, notti insonni, lacrime, difficoltà infinite. Adesso devo a me stesso la gioia di questo momento, poi ne riparleremo. Sicuramente non sono un tipo che si accontenta molto, adesso però devo assolutamente gioire per questa cosa perché mi merito di essere felice per questo.